Allora, com'è andata? Un po' l'acqua devi rispondere. Benissimo, non è un po' l'acqua. Ma scusi, ma com'erano le rapide? Molto ondose, ma facili, roba da niente. Roba da niente, proprio. Stai dicendo quello che si vede lì sotto. Questa è quella la più facile. Ma faceva anche un caldo tremendo, insomma. Infatti, vedete il sole e lei è stata battezzata su onde piuttosto piccole, insomma, tanto così. Sì, sì, tanto. Prendendo la scala di... Ma come mai non ti vedevamo più, poi, a un certo punto? Allora non erano proprio piccole. Non erano proprio piccole. E dopo lui, lui l'abbiamo visto fare due eschimi e te no. Veramente? Mi sono messo a giocare con quella morta pentolona. Si dice così al giorno. No, no, tu sei. Che stava giocando in una morta con me, è uscito lei. Bene, allora ufficialmente, ufficialmente è battezzata Canoista Wild Water. Ormai possiamo dirlo. Lo diciamo. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Chi è? Chi è questo? Chi è? Chi è questo?